Specchio specchio delle mie brame Eh, o non è il momento di un nuovo video haul? Certo che sì, quindi bentornati in un mio nuovo video haul Indossato Ci tengo a precisare, indossato Crop top in mallina Assolutamente da indossare con un paio di jeans o una gonna ad alta vita Ha questo bellissimo dettaglio sulle maniche arricciate Ho fatto un dettaglio che in questa stagione mi piace veramente tanto Ha questa scollatura a V e si lega in vita con un fiocco Quindi va a sottolineare il punto vita E di questo bellissimo colore azzurro E il fatto appunto che sia un tessuto pesante Lo rende ideale da indossare in questa stagione Una camicetta con delle righe verticali che tende ad allungare la figura Ha questo bellissimo scollo È costata pochissima ma è veramente molto comoda Comfortevole Bellissima da indossare ogni giorno sotto un paio di jeans Questa invece è di questo colore senape Ha scritto Friday I'm so happy to see you Come l'altra è molto comoda Io adoro le felpe Ed è di questo colore molto autunnale Secondo me è veramente molto molto bello Sempre da Bershka ho deciso di prendere questa gonna Con questa linea Ada Molto utile per nascondere le pelote di Cheval Ed andare ad empatizzare la figura È ad alta vita ed è di velluto di questo colore borgogna Molto bella da indossare con degli stivali sopra al ginocchio Con una felpa appunto O con un crop top Veramente molto bella e versatile Poi come ci sa il velluto è una tendenza di quest'anno Quindi stra approved Un cappotto rosso mi mancava Così ho deciso di prendere questo Che ha il dettaglio di avere delle maniche disegnate Con questa linea veramente molto semplice È veramente molto caldo È confortevole Adatto da abbinare sopra ogni outfit Ha un bellissimo rossetto rosso Veramente molto bello Le maniche sono lunghe Ed io ho preso una M In modo tale che posso mettere dei maglioni pesanti sotto E che comunque mi rimanga abbastanza comodo addosso Questo paio di stivali è probabilmente il più comodo che io abbia mai avuto E ha il dettaglio di essere metà di pelle e metà in velluto Veramente molto bello Sopra al ginocchio è fantastico da portare con dei vestitini Questa è una felpa di Zara Io la amo perché ha le fiamme qui Che sono fatte di velluto e queste borchette Ha le maniche termina così È felpa da dentro Costa veramente poco È vero molto bella da abbinare su tutto Io la amo, la stra adoro E impazzisco per questa felpa Grazie a tutti